Torna domenica 14 aprile nel borgo di Monte Sanzavino il mercato delle pulci versione outdoor dopo il grande successo delle due edizioni all'Arezzo Fiere Congressi. Lungo le vie del borgo della Valdichiana gli espositori porteranno i loro oggetti per la maggior parte usati. Una giornata di eventi a Monte Sanzavino che celebrerà anche la figura di Giorgio Vasari a 450 anni dalla morte. Sono previste visite guidate, danze, giullari e teatro, un evento promosso dall'Associazione Scannagallo, dalla Proloco di Monte Sanzavino e dal Comune, il tutto a partecipazione libera e gratuita. Un'altra collaterale sarà il Rifiuto del Tempo, opere degli artefici contemporanei, una collettiva d'arte. Gli artisti esporranno le loro opere presso il loggiato del Palazzo Comunale e i Giardini Pensili, tra cui alcune e in onore di Giorgio Vasari. Il mercato delle Pulci aprirà alle 9 e chiuderà alle 19. Saranno anche disponibili navette gratuite dallo Stadio Comunale delle Fonti.